...e non sono mai potuto venire, però oggi, un giorno così speciale, non potevo mai mancare. Quindi oggi queste parole te le scrive il tuo caro papà e ti dice che tu sei la cosa più importante della sua vita. Divertiti, che questo è il tuo papà, recupererà tutto il tempo che ha perso. Degli un bacio alla tua mamma, alla tua famiglia e godi di questo momento che soprattutto ci devi tanto, insieme a questa canzone che te la devi dire il tuo papà. Occhi che non posso incontrare, perché forse il mio sbaglio fa inizio da male. Cose che non posso spiegare, a chi va o a capisci, a chi vuoi reagire. Cose che non posso incontrare, a chi va o a capisci, a chi va o a capisci, a chi va o a capisci.